Il Qatr Kano Ami Aosu Giùle Mistejfa Besshalla Gheriet El Umar Mashi Chabidnarchi Bessir I soldati confermano che l'ospedale è sotto sedio Al Qatala sta sfruttando i civili come fossero scudi Proteggono qualcuno O qualcosa Più scopriamo Via libera Farah A dire il mio cecchino migliore Conta pure su di lui E su tutti gli altri I Marine vogliono un po' d'azione Guideranno l'assalto Ti ho ditto che avremmo aiutato E sei di parola Non è per quello che lo faccio Per gli invasori del mio paese La vita umana non ha valore Il gas uccide tutto Anche il cibo che coltiviamo Chi usa queste tattiche è mio nemico Nessuna eccezione? No Al Qatala ci ha rovinato la reputazione Abbiamo pagato cari i loro crimini Il lupo va punito Farò in modo che tu sia all'ambasciata durante la consegna E tu? Dove andrai dopo tutto questo? Ovunque mi manderanno Non puoi scegliere? Non proprio Riposa Domani sarà dura E tu e i tuoi uomini? Saremo qui fino all'alba Copro l'angolo sguarnito L'ospedale è in fondo alla strada Mezzo chilometro Io vado insieme ai Marine Ecco 3-1 Sergente Griggs Ce l'hai davanti? Chiamami Alex No, niente locali Non decido io Sei Karim? Ce l'hai davanti? Bel lavoro contro i russi Amici e nemici in comune E tu hai? Ushufakan arriva Partiamo Alex Demon Dogs È ora di scatenare il caos Avremo tutti i bersagli che vorremo Occhio alle finestre Qui è difficile distinguere amici e nemici È tutto un casino Seguite il blindato e state vicini Viper dove siete? Viper in direzione nord Mi sono aperto Un appuntamento all'incrocio tra un minuto Ricevuto Viper chiudo Urgente Mi dai il shampoo nella nip Influzione 3-1 Vuoi disinnescarlo? Ok vado Demon Campo libero Andiamo Seguite il blindato e state vicini Marin Avanti Bordigno! Bordigno! In marcia! Lanciate i fumogeni e attaccate il fianco verso l'alto È il fuoco! Sì, sono fumogeni! Vuodersi, vuodersi! Avanti! Avanti! Un attacco! 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 Non lo vedo! Arriva un veicolo libero! A presto! 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 A presto!